Ciao a tutti ragazzi, per il mio video, questo è un nuovo video, farò un video qua, a gran casa, chi mi vuole vedere? Iscrivetevi al canale, e se non ti puoi vedere, venite a gran casa, chi abita a me, venite a gran casa, come vi vedete, e niente. Io adesso ho il trasporto da gran casa a macchina, quindi 3, 2, 1, ciao! Ehi, Landa, sono in macchina, ciao!